Leone carissimi, per tutta la settimana o quasi ci sarà proprio una gran bella luna nel cielo per voi, quindi intuitivi, con un fiuto spiccatissimo, anche con una certa volontà di fare i pionieri, di avviare, di occuparvi di start-up anche, sarete sempre in prima fila, motivati, con un grande gusto anche della sperimentazione. Certo, poi se consideriamo che c'è Venere che vi ammanta di fascino, che vi rende ancora di più i re e le regine dello Zodiaco in quanto ad acchiappanza, anche dal punto di vista cuccatorio e fornicatorio, insomma la settimana è bella che è descritta. È una settimana a 5 cuori, 5 stelle, 5 segni di dollaro o di euro come preferite e quindi tutto va bene. Dal punto di vista finanziario ci sono dei piccoli segnali di ripresa, ma ne parleremo meglio più avanti.